... Abbiamo appena visto delle immagini tratte da Gastone il menu di un corso che avete fatto l'anno scorso. Di cosa si trattava, Anna? Sì, è il nostro piccolo assaggio di teatro che è stato realizzato giugno 2014 presso il cortile delle Suore Sant'Anna dedicato al cabaret degli anni 30. Insomma, i bimbi hanno vestito i panni di ospiti e artisti allo stesso tempo nelle parole delle tragedie in due battute di Achille Campanile con grande divertimento e grande soddisfazione loro e dei loro genitori. Ma quest'anno vi collegherete in qualche modo a quello che avete fatto l'anno scorso o all'Hash Lock? Perché so che avete un progetto. Sì, il nostro progetto annuale è quello di proporre ai bambini di età compresa tra i sette e i dieci anni un laboratorio teatrale. Il laboratorio quindi con la presenza di un gruppo di bimbi che lavorano insieme che si sperimentano insieme con l'obiettivo proprio di stimolare la loro fantasia, la loro creatività il confronto e naturalmente la condivisione delle loro attitudini delle loro capacità espressive. Quanto è importante per dei bambini mettersi in gioco confrontarsi con altri bambini diciamo, altri coetani magari facendo un'attività importante culturale come questa? È importantissimo perché è un lavoro come dicevo di gruppo quindi nel rispetto delle regole la capacità di vivere il gruppo di vivere il confronto usando in maniera allegra, sana e fantasiosa il proprio corpo la propria voce le proprie capacità di improvvisazione i propri polmoni perché si impara anche a respirare bene cosa che talvolta la vita anche dei piccoli non ci aiuta a fare stress insomma dettato da ritmi incalzanti della nostra giornata quindi tutte le tecniche del teatro vissute nell'ottica del gioco del divertimento vengono così approcciate in maniera semplice adeguata alla loro età per far sì che il teatro entri nella loro vita in maniera naturale in maniera spontanea e all'interno del laboratorio che ha insomma la durata di nove mesi perché si conclude normalmente a giugno con la conclusione di tutte le attività un anno scolastico praticamente si accompagna i bimbi fino a giugno e normalmente abbiamo sperimentato alcuni momenti di verifica che sono possono essere o delle degli incontri aperti delle prove aperte o piccole dimostrazioni dove i bimbi si confrontano con una piccola platea che è quella della loro famiglia il nucleo familiare nello stesso tempo ha la possibilità di entrare nel vivo di questo gioco quindi di di vedere con mano il tipo di di esperienza e di farla insieme ai propri figli quando inizierà? inizierà in ottobre quindi le iscrizioni sono sono aperte ricordo bimbi tra i 7 e i 10 anni e giorno 30 settembre apriremo la scuola aprirà le porte a chiunque voglia prendere informazioni dettagliate sul laboratorio e avviare anche una lezione prova che il centro SHELOC offre a tutti i bimbi e tutte le famiglie che ne abbiano voglia io non ve l'ho presentata lei è Anna Passanisi ma già sicuramente la conoscete tutti quindi vi aspetta Anna e tutto il gruppo del centro SHELOC giorno 30 settembre alle ore 17 per ulteriori informazioni e per iscriversi alla prova gratuita e magari iniziare questo anno scolastico importantissimo per voi e per i nostri figli e per i nostri figli